Signore e signore buongiorno, allora buongiorno a tutti, stamattina ci troviamo all'azienda di San Magno. Siamo fuori, poi entriamo dentro, abbiamo già fatto qualche foto, abbiamo sterilizzato le mani. Guarda che bel punto, questo è bellissimo, se lasciamo a riprenderlo con un po' più di luce è bellissimo. Dicevamo abbiamo scelto questo punto di fondi che è veramente molto bello, c'è una grande tranquillità qua, per questo video dedicato a una delle chiese periferiche di fondi. Questi sono due, uno un po' prima, l'abbiamo visto l'altra volta, Madonna degli Angeli, l'altra invece la stiamo vedendo ora. Questo si chiama, ma non si chiama proprio la chiesa di San Magno, questo dovrebbe avere un altro nome, adesso mi sfugge. bisogna vedere, hai divertito l'ondo un po' fuori, non c'è niente un cartello, quindi noi mettiamo, ho fatto la mano, che botta. Deve rispetto del posto adesso non parliamo e facciamo soltanto vedere la chiesa. Grazie. 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 Grazie.